Amici Xur Angar, torre Solito posto lo trovate qui Accanto al balconcino Ma prima i link Che trovate in descrizione come sempre Che non ho pronti oggi Perché non stiamo sul pezzo Give away, mancano 18 giorni Per partecipare, mi raccomando In descrizione trovate anche il link Di instant gaming per comprare la roba scontata I giochi nuovi Diversi, DLC di Destiny, qualsiasi cosa Volete comprare su instant gaming, costa di meno Costa di meno Se volete vedere la strada per arrivare da Xur Non è questo il giorno In cui ma farò vedere Allora Il dura luce ragazzi, che non è più in meta Da il 15-18 probabilmente Automatico al 600 Oddio in realtà Gli automatici sono così forti in crogiolo Ma sono stati Rinerfati da poco quindi A parte il fatto che cambia elemento Ogni volta che tenete permuto Il tasto della ricarica Per il resto il dura luce Può rimanere lì Dov'è Il lampone fortunato invece Vi aumenta la capacità di concatenazione Della granata saettante Danneggiare i nemici con fulmini Che infliggono scossa E raccogliere tracce ioni Che fornisce energia aggiuntiva Per la granata saettante Le granate saettanti Stordiscono i campioni sovraccarichi Lampone fortunato che prima era soltanto L'hanno reworkato insomma Prima il perk era piccolissimo Così adesso fa qualcosa in più Ma rimane sempre una cosa Che con il cacciatore ad arco Si usa molto molto poco La monocchio invece Con 24 di disciplina 18 di mobilità E 13 di resilienza Con un rollo un po' particolare Rimane una buona Esotica da utilizzare in pvp Contrassegni il bersaglio Che osa ferirti Seguilo o distruggilo Per ottenere una protezione aggiuntiva Sovrascudo ragazzi Sovrascudo Interessante Poi L'artista in fuga Per la strega invece È un Madonna che roll è rega 29 e 23 Me lo compro anch'io E Vi permette di Mangiarvi la granata Convertire l'anima ad arco Cioè convertire la granata subito In un'anima ad arco E in più Vi da amplificazione È una cosa carina Che si può utilizzare Per alcune cose particolari E Il pezzo è buono È un god roll Praticamente Io lo prenderei Prendete L'artista in fuga Poi Leggendarie Andatura del lanciere farfarone L'avventato con Eh L'avventato linea di fuoco Peccato che però Ci ha ben piantato Che fa un po' schifo La drang Con bersaglio mobile E recupero Meh Dei cita Scivolata amplificata Gancio letale Entry level Se qualcuno di voi Non ha un pompa Con Con gancio letale Xur Ve lo vende Stasettimana In caso Se non volete Craftarlo Quello che è C'è un impulsi Con tiro d'apertura Alla larga E perforanti Scanalata E gittata Un 540 Il sopravvivenza Sopravvivenza Al tempo Ricordo che Quando uscì Era un buon impulsi Per i meme Lo compro E lo userò Nelle trials Che andremo a fare adesso Poi c'è il falco Con estrazione celere E i pezzi D'armatura Sono con la strega Aspettate che intanto Apriamo di qua Così facciamo prima Ci sono di quanti brutti Un petto brutto Un casco Meh Meh Un po' così Delle gambe con 24 di mobilità E 20 di intelletto Che stanno bene Dove stanno Con la carciatrice invece Abbiamo un 22 di resilienza Con 15 di disciplina E 10 di recupero Questo potrebbe essere carino 25 22 comincia a essere Già un rollo carino 18 16 Col petto 18 14 di intelletto Eh Attenzione Delle gambe Per la strega Con 29 Di disciplina Per il cacciatore Scusate 29 disciplina 17 Recupero 14 mobilità Peccato Per il recupero Così alto E non resilienza Però Mica male Titano Abbiamo Abbiamo Delle braccia Con 24 di intelletto 28 di intelletto 20 di resilienza Se volete proprio Concentrarvi sull'intelletto Se potrebbe fare con questi due pezzi Peccato Per questo 25 di disciplina 18 di recupero 10 di mobilità Poca resilienza Troppo poca Per essere un titano Quella mobilità lì Sul cacciatore è accettabile Sul titano Direi assolutamente no Peccato Comunque discreto Artista in fuga Buono Sopravvivenza da provare Avete un paio di pezzi Uno sul cacciatore E uno sulla strega Che potrebbero essere interessanti Insomma Abbiamo visto di peggio Grazie a tutti